Sono pronti nuovi campi da padol a Ventimiglia. Oggi è un giorno importante per un'aria per troppo tempo simbolo di degrado ed incuria. Rinasce una nuova vita con quattro nuovi campi da padol, i primi campi da padol cittadini. Saranno aperti a tutti naturalmente attraverso una convenzione stipulata tra il comune di Ventimiglia e il proponente. I residenti avranno la possibilità di usufruire di questa struttura con una scontistica particolare. Diciamo che lo sport del momento è uno sport accessibile a tutti. È un esempio di come la sinergia pubblico-privato possa consentire di ottenere dei grandi risultati. Perché amministra è naturalmente un motivo di orgoglio vedere realizzati l'impegno e la programmazione amministrativa. Un grandissimo risultato, dirai, sempre come emblema di quella famosa sinergia che si viene a creare tra pubblico e privato. Per cui noi come amministrazione di Muro ovviamente ci impegniamo quotidianamente. Questo è l'esempio. Finalmente come assessore allo sport posso annunciare, finalmente, che anche Ventimiglia può godere ovviamente del padel. Quindi uno sport che ormai sappiamo è diventato proprio di fama internazionale. Ringrazio ovviamente l'assessore catalano che in questo caso ha seguito con attenzione il progetto proprio di edilizia privata. sta regalando alla città proprio questa bellissima opera. Ovviamente ringrazio anche gli imprenditori privati. Ringrazio il consigliere Di Marco che è un delega allo sport. Per cui anche durante la festa dello sport le loggie hub sono stati ospiti. Per cui abbiamo ovviamente anche annunciato l'open day che si terrà proprio il 20 ottobre domenica a partire dalle ore 8.30. Una riqualificazione totale proprio di rigenerazione urbana che prevede appunto l'insediamento di un nuovo hub sportivo con quattro campi da padel. Ci sarà una piscina ovviamente un trattamento agevolato per i ventimigliesi che godranno di un 10% di sconto per tutti i servizi che vengono proposti proprio in questo nuovo centro sportivo. E poi ovviamente sempre la sinergia con tutte le attività sociali. La piscina potrà essere a servizio anche di ragazzi della spessa e addirittura un campo da padel sarà preposto proprio a tutti i ragazzi di ventimiglia che vorranno venire a esercitare attività sportiva. Ovviamente inserito qui in via Tacito in un contesto che devo dire sta assumendo sempre di più le sembianze di polo sportivo. Vediamo anche grazie agli aiuti della provincia come la palestra proprio vicino adiacente anche gli spazi esterni del liceo a Prosio come appunto sta rinascendo con una struttura completamente nuova e rigenerata. Grazie a tutti.